Io so che voglio giocare per la Lazio, ho rinnovato il contratto quest'anno per altre 5 stagioni, personalmente sono concentrato e penso solo alla Lazio, anche perché ho fatto una buona stagione, un gran campionato grazie a Dio e penso soltanto alla Lazio, dovrò presentarmi lì per il ritiro precampionato, per il resto non so niente di offerte varie per cui il mio futuro è la Lazio. No, no, anzi penso che questa chiamata sia stata a coronamento della mia stagione in Italia, nonostante l'ultima parte di stagione, ma sono stato molto felice per la chiamata, per essere stato osservato da vicino e per poter lavorare più a contatto con Dunga, conoscere tutti gli altri giocatori. Sto lavorando, dando il massimo per far vedere che ho tanto da dare, tanto potenziale, adesso faccio parte di questo gruppo in questi giorni, sono molto contento per questa opportunità, spero di poter continuare a dare il massimo per poterne avere altre in futuro.